E' diventato realtà il sogno di Fausto Anzaro, il giovane vigevanese giocatore di hockey in carrozzina che poco più di un anno fa aveva lanciato una raccolta fondi. L'obiettivo era quello di acquistare una carrozzina sportiva per giocare a hockey, dato che il suo impegno in Serie A2 con il Dream Team Milano non era più compatibile con una carrozzina tradizionale da usare anche nella vita di tutti i giorni. Una gara di solidarietà lanciata con l'aiuto degli amici a partire da Luana Mogavino e dalla consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Silvia Baldina che hanno coinvolto tutta la città. E' stata una raccolta di solidarietà, una gara di solidarietà molto dinamica. Sono stati quasi 14 mesi intensi, hanno partecipato centinaia di persone, sia privati che associazioni. E' stato molto coinvolgente perché hanno soprattutto nel primo periodo si sono interessati a Fausto anche persone che non c'entravano assolutamente niente con l'ambito sportivo, quindi persone del teatro che hanno fatto spettacoli per lui. Abbiamo iniziato poco prima del Natale scorso, però abbiamo iniziato la raccolta su Facebook. Abbiamo aperto questa raccolta, in tantissimi hanno iniziato a partecipare, poi abbiamo fatto i vari permessi, abbiamo portato i salvadai nei negozi, abbiamo organizzato degli eventi. Con la nuova carrozzina Fausto sogna la convocazione nazionale e la conquista di trofei da dedicare alle persone che lo hanno aiutato. In tutto naturalmente quando la pandemia lo permetterà, dato che allenamenti e competizioni sono al momento sospesi causa Covid. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito per proprio realizzare questo sogno, perché questa qui è una carrozzina, come vedete, che è una carrozzina sportiva, quindi vi ringrazierò ancora. Spero di regalarmi anche qualche vittoria quando potrò ritornare fino ad allenarmi a giocare.